Bene amici di HDblog, G4 Stilus che sta facendo una macro, niente male, notate l'animaletto sul fiore. Torniamo a luci non normali perché questo è un fantastico tramonto pugliese, ma queste sono luci più normali. Questa è la vettura che mi sta accompagnando in questa vacanza, faremo un diario di viaggio con Kia Sorento su HDmotori, quella è la luna e questa è la meravigliosa vegetazione pugliese con alberi pini marittimi. Proviamo a farlo zoom proprio su un pino marittimo, zoom massimo 4x, mi sembra pixelizzi un po' però, ripeto, lo vedrò poi su PC. Torniamo a 1x, proviamo a camminare un attimo su questo fantastico prato. E che dire, io vi do appuntamento ai prossimi giorni per la recensione completa, nel frattempo ho anche fatto un pan veloce. No, il mio albergo non è una cosa così brutta, è molto più spartano. Ci vediamo presto, ciao!